Riprendiamo la discussione, il consigliere venese ha ancora 3 milioni. Prego, per quanto riguarda il... Il milione non poteva essere stato chiaro perché semplicemente non aveva parlato prima, che non aveva identificato la legge libera. Per quanto riguarda il fatto che fosse già in linea con i principi appeggitivi a legge l'assessore, per quanto riguarda il fatto che non fosse, non fosse, non avesse già parecce di attenzioni bene, il problema è sicuramente sono altri metri pubblici e metri in città, sicuramente se non la prova consiglio non si pubblica, sicuramente dipende da me, dai miei colleghi, il parere. Il mio parere, lo ho espresso con molta calma prima, la mia idea è che non farei più costruire un centimetro quadro di cemento, fino a che non so dove va a finire questa città, un centimetro quadro. Lei stesso dice che potrebbero esserci dei problemi per la circolazione in quella zona, legata ai parcheggi, che forse stiamo trattando con i vicini. Ecco, mia abitudine sarebbe quella di prima concludere le trattative per poi vedere eventualmente dove può, prima di coinvolgere il Consiglio Comunale in questo. Il concetto di base è che in questi anni si è costruito molto. Dove posso? Perché posso? Grazie a Dio me lo consente la legge. Fermare la cementificazione lo faccio, a prescindere, perché voglio capire questa città dove andrà a finire. È mia facoltà, e la prego di non tenere aggeggiamenti, rende di condanna quello che potrebbe essere un'analisi da un punto di vista tecnico, perché se la tecnica, la giurisprudenza, mi consente di bloccare anche la costruzione di un box oggi a Comunale, io lo blocco. Ma lo blocco perché per quanto mi riguarda in questa città si è costruito troppo. C'è modo di poter gestire l'housing sociale, eventualmente in altri modi, senza andare a occupare nuove superfici, che fin tanto che io e lei saremo su questo pianeta saranno ancora lì, fin tanto che mia figlia sarà su questo pianeta sarà ancora lì, genereranno dell'altro traffico, eccetera, 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 i discorsi elementari. Quindi che sia di sostanza, che sia di pianificazione, che sia quello che è, il mio parere rimane contrario, perché se proprio devo considerare la costruzione di un solo centimetro quadro in questa città, un solo centimetro quadro, quello che mi piacerebbe vedere, in buona sostanza, è vedere la demolizione di un altro centimetro quadro. Si chiama mitri cubi zero, non lo fanno dei volshevichi, comunisti, nemici del popolo, ma lo fanno a Londra, dove si è capito che si è arrivato ad un livello di costruzione insostenibile, insostenibile, e quindi a Londra chi vuole costruire un centimetro quadro deve demolire un centimetro quadro, perché a Londra hanno capito che dove c'è il boom, che è finito, c'è lo spum, e se c'è lo spum lasciamo i palazzi vuoti, che saranno una cento mille ticose. E' chiaro? La ragione è, posso bloccare la cementificazione e la costruzione di un metro quadro? Dico sì. Metri cubi zero, abbiamo costruito troppo. Grazie.